Carlo Conti ha deciso di rompere con i festival di Amadeus, stravolgendo così il suo Sanremo. Ecco che cosa bisogna attendersi. Sarà una stagione televisiva impegnativa per il conduttore di Rai 1 che dovrà portare avanti non solo i suoi impegni tradizionali, come tale e quale show, ma è già al lavoro per la prossima edizione della Kermess musicale che andrà in onda nel mese di febbraio. I dirigenti Mediaset non hanno avuto dubbi nell'affidare il prossimo festival di Sanremo a Carlo Conti, dando a lui la responsabilità di prendere in mano questa «patata bollente», dopo le straordinarie edizioni messe a segno da Amadeus negli ultimi cinque anni. È così che il conduttore toscano avrà il compito di mettere in piedi una nuova edizione della Kermess musicale che si prospetta molto diversa dalle precedenti, come lo stesso Conti ha fatto intendere. Carlo Conti prepara Sanremo. Ecco tutti i cambiamenti. Il conduttore ha lasciato una interessante intervista a, diva e donna, nella quale ha spiegato, tra le tante cose, anche come sarà il suo ritorno all'Ariston in qualità di presentatore e direttore artistico. È proprio in questa occasione che ha voluto anticipare quali saranno i principali cambiamenti che saranno apportati al festival di Sanremo. Conti ha rivelato che sarà un festival con tante iniziative e avrà un taglio più vicino al passato rispetto alle precedenti edizioni condotte da Amadeus. Dunque, il conduttore ci ha tenuto a spiegare che il suo Sanremo sarà diverso rispetto a quello degli ultimi cinque anni. Questo vuol dire che non seguirà quanto fatto dal collega. Ma ha in mente un'idea tutta sua. In attesa di conoscere quali saranno i big in gara, Conti ha pure parlato dello slittamento del festival di una settimana. Non andrà più in onda dal 4 all'8 febbraio, ma dall'11 al 15 febbraio. Il conduttore ha confermato che la scelta è arrivata proprio per via della Coppa Italia di calcio. Visto che in quei giorni andranno in onda i quarti di finale della competizione calcistica. Una decisione che però è andata bene a Conti. Come lui stesso ha raccontato. Questo perché il figlio Matteo è nato l'8 febbraio. Il giorno in cui ci sarebbe dovuta essere la finale della competizione canora. Mentre con questo slittamento il conduttore potrà festeggiare con calma il compleanno del figlio. Grazie. Grazie. Grazie.